Ciao a tutti, bentornati su Battle Spirit Central. Oggi siamo qui in un nuovo video che so già che sarà controverso. Infatti andremo a fare una tier list sul nuovo formato. Abbiamo aspettato venerdì che magari ci poteva essere una banalist dopo il Profest. Nada. E boh, continuiamo a sperare, ma noi facciamo finta che non ci sia bisogno, non ci serva. E andiamo un pochino a vedere quali possono essere i mazzi più forti di questo nuovo formato e dove si vanno a posizionare, secondo noi ovviamente, anche tutti i nuovi mazzi. Ovviamente fateci sapere anche voi cosa ne pensate, perché sicuramente tutte le opinioni saranno molto discordanti, ne sono abbastanza sicuro. E comunque bene così, perché secondo me vuol dire che tutti questi nuovi possibili mazzi hanno comunque possibilità contro i vecchi mazzi Meta, ovvero Ira, Hydra e tutte queste cose che sappiamo benissimo ci escono dalla testa. Comunque iniziamo subito. Allora, partirei subito con i mazzi più forti del formato che andranno a essere sicuramente il nostro carissimo Hydra. Adesso l'ho messo in Rogue, magari fosse Rogue. Possiamo metterci Hydra puro, possiamo metterci Hydra con Caldera Dragon. Adesso io... scusate che vengono così le carte, ma non sapevo come fare. Può essere un mazzo rosso-blu, oppure anche semplicemente un Ira puro, va a essere top tier. Dopodiché, visti questi qua, che sicuramente sono le nostre certezze, andiamo un pochino a vedere quello che può essere i mazzi un pochino più bassi. Partirei da, visto che siamo qui, Purple Control, un Purple Control classico. Io lo metto in tier 3. Ayumu ci ha fatto bene all'ultimo Grand Tour, ma rimane un mazzo forse un po' troppo lento per questo formato. Ovviamente, tutti questi mazzi qua possono vincere 20, non escludo nulla, tutto è possibile. Però insomma, diciamo che ci sono mazzi che è più probabile che facciano bene, che toppino con consistenza, ma sì, che è meno probabile che lo facciano. Comunque, non dilunghiamoci. Proseguiamo con il nostro Purple Aggro. Io per Purple Aggro, Purple Midrange, metto Mediuk, perché comunque spesso la build è molto Serpent. Comunque, con Mediuk intendo questo. Insomma, Mediuk, Purple con Mediuk, come quello che ho portato io, è tier 2, comunque, può dire la sua. Non ha ricevuto un cacchio di supporto, ma si posiziona a meta nel meta, anche perché Double Deadly è veramente tanto forte. Specie contro carte come Caldera Dragon, tutti i nuovi Light Guider, quindi non male, secondo me. Mazzo magari fatto con Nemesis, secondo me è un pochino meno forte, ma lo mettiamo comunque in tier 2. Qui proprio voglio essere puntiglioso. Luster, mi dispiace, ma per ora è Rogue, Luster puro. Smug Pile, io lo metterei in tier 3, ma non lo so neanche, non lo sto più vedendo. Può fare da collante per dei mazzi Light Guider, o Sky Binder, scusate. Però sì, lo metto in tier 3, ma sono buono probabilmente. Magari andiamo a vedere qualcosa di più classico, qualcosa come un Yellow Fable Beast, io lo metterei in tier 2, può sempre dire la sua, però purtroppo anzi tier 3, perché finché c'è Hydra questo mazzo qua fa una fatica veramente, veramente atroce. Allora, andiamo a vedere un pochino di mazzi nuovi, però. Andrei a vedere il nostro verde-bianco con i token, io lo metto all'inizio di tier 2, onestamente. E forse una possibile contender, perché è un mazzo che sopra tantissimo ira, ma comunque, diciamo che se entra al doppio simbolo può avere dei tool per difendersi e fa veramente, spamma veramente tanto. Quindi, eh, chissà. Ok che c'ha ira e floodstream che lo fermano, però sarà che ho preso veramente il cazzo fortissimo contro, testarci contro, però secondo me può dire veramente la sua. Passiamo al mazzo invece un po' più vecchiotto, abbiamo metto Mandala come Blue Meal classico, io lo metto rogue onestamente, può essere tier 3 magari, ma nulla di più. Mentre, 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 abbiamo il nostro solito white control, io lo metto in tier 2, lui ci sta benissimo senza problemi, può sempre dire la sua, è un pochino inferiore ai top deck, però, insomma, non male. Altro mazzo che mi sento di mettere in tier 2, visto le nuove aggiunte, è sicuramente il mazzo con sintetria. Lo metto in fondo a tier 2, secondo me è molto molto fastidioso come mazzo, e devo dire la verità. Poi, possiamo andare avanti con un onestissimo giallo bianco, giallo bianco che secondo me Isani può darci delle grosse grosse sorprese, infatti un pochino, probabilmente, azzardato, lo mettiamo in tier 1. Giallo bianco, quando verrà buildato bene, magari con più una prevalenza di bianco, invece che una prevalenza di giallo, sarà molto molto fastidioso, e chissà se potrà andare a competere, perché darà un qualche colpo in più a un white control classico che magari gli manca. Perché Wendy Gloom veramente ti fa un early game della madonna. Ovviamente, prontissimi a essere smentiti. Mentre, metterei il nostro Green Gambler, che va a rappresentare giallo viola in tier 3, tendente a rogue. Stessa cosa, io ci metto la nostra X rossa con Astral, rogue, rosso viola. Io questa qui la gioco in rosso viola, anzi, mettiamo Gigano Rex, che è meglio. Mi dispiace, ma, e con Gigano Rex intendo rosso viola, mi dispiace, ma non si va troppo in là, purtroppo. Almeno, io devo ancora trovare una build decente. Poi, proseguiamo con, cos'è rimasto? Blu verde, abbiamo Calavinkel, tagliato a mezzo, polverino. Questo, questo mazzo qua sembra essere un mazzo solido, secondo me, da tier 2, da mettere qua. Questi qui sono più o meno in ordine di forza, secondo me. Secondo me Cal è un mazzo, è un mazzo ignorante, non penso abbia troppe build diverse. Dobbiamo ancora avere tutte le varie conferme dalle FAQ per i ruling, però sì, direi che... Mazzo solido, che può fare molto, molto, molto bene, devo dire. Per concludere, possiamo un pochino andare a parlare degli aggro, i vari aggro. Adesso io ci metterò delle X per rappresentarli, perché non ho qua pronte le cose, non c'ho voglia sabato sera. Devo andare a vedere il basket degli Stati Uniti contro la Francia. Quindi, io metterei gli aggro in tier 3. Vediamo se effettivamente c'è un mazzo aggro un po' più prevalente. Scorso metà è stato green aggro, comunque io sia white aggro, che lo rappresento con Dyna. Che facciamo dai green aggro, lo rappresentiamo con... Volevo metterci Queen Antrain, se la trovo, eccola qua. Così, proprio... No, flambe, se uno la vede senza contesto questa Tiris, pensa che io sia pazzo. E forse verrà pensato lo stesso come cosa. Oltretutto, direi che comunque un mazzo con i token, puro token verde, tier 3 è lo stesso. Perché comunque, già, schifo non fa. Schifo non fa. Ovviamente, questo è top mixato con il bianco, ovviamente, verde-bianco. Lo va un pochino a racchiudere, qua ho voluto un pochino esagerare. Mazzievo, onestamente, non sto a metterli. Anche perché l'unico mazzo veramente rilevante è Willy Coyote e gioca Ira. E lo metterei comunque in tier 1, tier 2. Una cosa del genere. Bisogna vedere un pochino se qualcuno lo proverà. Veramente, io non l'ho praticamente mai provato. Ecco, un mazzo che... Anche questo potrebbe essere mischiato con bianco-verde, ma potrebbe anche fare testa a sé. È il caro vecchio verde. Io lo metto in tier 3, sempre, perché non ha fatto un gran che. Se lo si va a mischiare con bianco, magari può andare un pochino più in alto. Bianco, ma no, cioè, spacca sto formato. Forse è il colore che ne esce più vincente. Ovviamente bianco, mischiato con altri colori. Perché? Perché abbiamo bianco-giallo e bianco-verde, che possono essere due alternative veramente interessanti, come ho già detto mille volte in questo video. Bene, io penso di aver detto tutto. Scusate per come sono le carte. Fanno un po' cagare, però, insomma, spero si capisca. Ditemi un pochino anche voi cosa ne pensate. Ovviamente siamo dal mente all'inizio che abbiamo un pochino immaginato. Però, ecco, secondo noi una roba del genere può aver senso. Diteci su cosa siete d'accordo, su cosa non siete d'accordo. E soprattutto, cosa ci siamo scordati, perché sicuramente ci siamo scordati qualcosa. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video, con molto probabilmente dei gameplay oppure delle news, ma non le avremo mai, la box, basta, piangiamo. Possiamo piangere tutti insieme, per favore. Vabbè, ciao!